E' stata inaugurata la nuova Casina Liberty di Viale Mazzini, edificio che dà il benvenuto a Pordenone a chi arriva in città dalla stazione dei treni. La Casina, di proprietà del Comune, è stata restaurata per essere un infopoint ufficiale per offrire le informazioni su tutti gli eventi di rilievo di dettaglio che hanno luogo ogni giorno a Pordenone. La Casa Liberty è uno spazio fisico ma anche virtuale per promuovere la città, promuovendo gli eventi, le manifestazioni, quello che insomma succede in città. Sarà più difficile dire che adesso a Pordenone non succede niente, sarà più difficile dire che non lo sapevo, perché questo diventa un punto informativo importante per informarsi su tutte le attività della città. Il fatto che sia gestito dai giovani è un elemento in più che rende Pordenone una città dinamica, moderna, viva e attiva. Se è vero come è vero che a Pordenone cultura e eventi devono essere leve per il turismo, allora questo diventa un servizio estremamente importante. Pordenone ha la fortuna di essere caratterizzata da tantissimi avvenimenti, appuntamenti, iniziative, conferenze, eventi di natura musicale, teatrale, che purtroppo non sempre sono conosciuti dai cittadini o da chi vive fuori Pordenone. Attraverso questo sportello, attraverso anche le modalità di diffusione delle notizie, di mettere in rete tutte le realtà associative che compongono la forza di questa città, ognuno potrà avere informazioni quotidianamente su cosa si può fare a Pordenone. È una cosa estremamente utile che non esiste in tante città medie, dalle conferenze mediche, dalle iniziative in fiera, a quello che capita nei quartieri, agli eventi sportivi, insomma tutto ciò che caratterizza la quotidianità di Pordenone. A supporto di questa attività è stato creato il progetto Eipordenone, costituito da giovani che hanno grande dimestichezza con i social e con i nuovi strumenti di comunicazione e diffusione. Ce ne parla Luca Salvador, titolare di Elephant Creative Communication, ditta che è in gestione il servizio e che da anni cura la comunicazione di alcune aziende e brand del territorio. Il progetto Eipordenone nasce per valorizzare tutti gli eventi del comune di Pordenone presenti e si possono trovare attualmente nel sito www.eipordenone.com Il venerdì e il sabato si può venire in luogo qua alla Casina Liberty per scoprire tutti gli eventi e scoprire il funzionamento del sito. Inoltre tutti gli eventi della città adesso verranno promossi nei social sulla nostra pagina Facebook e Instagram Eipordenone.